che cosa vi dicevo ragazzi siamo nei deposito di questi stessi che spettacolo ogni prodotto è una delizia per il palazzo questo è il cibo attirato per una croccia latinata e ora anche io direi come il lusso ecco il primo carico pronto forse c'è il saliamo si o no ma no come sarebbe decisivo lo che ci dice o no basta a 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